Siamo alla quarta tappa del nostro ciclo Open Doors, dal tentativo di definire che cos'è un museo partecipativo, abbiamo visto la difficoltà di definirlo, stiamo verificando le pratiche che invece qualificano il museo in senso partecipativo e così a ritroso sta venendo fuori che cosa davvero è un museo partecipativo. Tra queste sicuramente l'educazione, ma non intesa in senso tradizionale, l'insegnante che insegna l'allievo, ma una capacità di educare secondo stili nuovi, dove chi viene al museo, ma anche chi sta fuori dal museo, diventa il protagonista della comunicazione del museo. Una comunicazione, un'educazione che quindi guarda a chi è spettatore del museo o al pubblico che sta fuori, che è il compito dei musei raggiungere. Come? Con delle tecniche sempre più coinvolgenti, capaci di uscire dalle mura per portare i contenuti culturali, i contenuti ampli, in senso storico, politico, contenuti di valori che il museo custodisce nella comunità. Abbiamo visto pratiche che passano dal museo Polacchio di Versavia, alla Lituania, pratiche di tutto il mondo dove questo si realizza in modo particolarmente significativo, ma anche qui a Brescia ci rendiamo conto sempre di più. Quello che il museo sta facendo in questo campo ha davvero caratteristiche del tutto innovative. Alla prossima, mercoledì prossimo.